Il fulcro di queste celebrazioni è ovviamente la mostra curata e organizzata dai musei reali di Torino attorno ai 13 disegni di Leonardo, un percorso che ci porta alla scoperta del suo genio visto sotto tantissimi aspetti. Attorno a questa grande mostra 40 istituzioni hanno lavorato per arricchire l'offerta culturale della nostra città attorno a Leonardo. È un programma piuttosto vasto, per chi volesse approfondire è disponibile il sito www.leonardatorino.it è già da un po' partita ma si rafforzerà a partire da marzo la campagna di comunicazione che colpoggerà Torino, Piemonte, Italia e Europa.